Buonasera da Ispica. Siamo presso gli studi di Radio Dimensione Musica dove stiamo seguendo lo scrutinio per le elezioni amministrative 2020 per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco. È stato un pomeriggio avvincente che ha visto due candidati, ovvero il Sindaco Scente, Muraglie e Leontini in un susseguirsi di ribaltamento di fronte, ovvero sia da prima avanti per numero di voti da parte di Muraglie del Sindaco Scente e poi essere superato da Leontini e così via. Adesso il dato si è un po' stabilizzato, siamo all'84,98% delle delle schede scrutinate pari a 7.691 su 9.184 schede da scrutinare. Diciamo subito che il candidato Leontini è avanti con un margine che oramai lo decreta quale nuovo sindaco della città di Ispica. Leontini che in questo momento, ripetiamo, con l'84,98% delle schede scrutinate è a 3.567 voti, Muraglie a 3.230 e poi il candidato del Movimento 5 Stelle Guido François con 622, infine Antonello Calvo con 272 voti. Diamo anche così uno sguardo alle liste. Calvo sindaco in questo momento ha 185 voti, Valia 288, Movimento 5 Stelle 413, Leontini sindaco 1925 voti, Rinascita ispicese 877, Cambiamo davvero Ispica 613, Cives 486, PD 680, Muraglie sindaco 1555, Progetto Ispica 662. Ovviamente per quanto riguarda la composizione del Consiglio Comunale bisogna attendere la fine delle operazioni di voto che appunto siamo arrivati in questo momento all'84,98% e come dicevo la composizione del nuovo Consiglio Comunale potrebbe essere la seguente. Per la lista Leontini sindaco da 5 a 6 consiglieri, rinascita ispicese da 2 a 3 consiglieri, un consigliere ciascuno per Cambiamo davvero Ispica e Cives. Queste sono le liste collegate al candidato Leontini sindaco. Per quanto riguarda le liste collegate al candidato sindaco uscente, Pierenzo Muraglie, avremmo da 2 a 3 consiglieri per la lista Muraglie sindaco, un consigliere per il Partito Democratico, uno per Progetto Ispica e da vedere se il Movimento 5 Stelle arriva al superamento dello sbarramento previsto dalla legge e ad avere anche il suo consigliere. In caso contrario il consigliere andrebbe alla lista Muraglie sindaco. Ecco, questi sono in questo momento i dati delle liste e dei candidati. Nel corso della giornata si sono susseguite interviste, commenti per quanto riguarda tutti i candidati. Da qui abbiamo ascoltato Pierenzo Muraglie, il quale ha già dato atto della vittoria a Innocenzo Leontini. Con i dati che sono usciti Innocenzo Leontini supera il 40%, per cui superando il 40% non ci sarà il ballottaggio previsto che doveva svolgersi tra 15 giorni. Ovviamente a Muraglie che supera il 20% il sindaco uscente avrà diritto ad un posto in consiglio comunale. Consiglio comunale che non sarà più composto da 20 consiglieri ma con la nuova norma sarà composto da 16 consiglieri. Da Ispica è tutto, a voi la linea.